Un viaggio è come una pagina bianca. Il bello non è conoscere la destinazione, ma scoprire ciò che ti fa andare avanti. Il bello non è conoscere la destinazione, ma scoprire ciò che ti fa andare avanti. Il bello non è conoscere la destinazione, ma scoprire ciò che ti fa andare avanti. Amici, il vero soldato non combatte perché davanti a sé ha qualche anno che odia, ma il vero motivo per il quale il soldato combatte è perché ha le persone che abbatte, ma qualcuno che ha e per il quale ha senso vivere. Tu, alle tue spalle, hai qualcuno che ami. Jump!